Allora questa è la nostra sigla, per chi ci conoscesse siamo quelli di 105 Mindset, buonasera a tutti, 18-20, due ore qua in compagnia di Moco che sono io, che arrivo da presso, c'è anche oggi Mattia, ciao Mattia buonasera, ciao Moco, c'è anche la Sara, quindi figata abbiamo il team quasi al completo, come al solito Sara tu penso non abbia il microfono, quindi non puoi parlare, però un urlo per almeno certificare che sia qui presente, ti dedico, non so perché ma ho iniziato sull'iPad a scrivere sulle notizie che mi mandi, la prima è ti amo tanto, ok?